oh basta raccogliere i libri hai rotto in tre quarti di cazzo direi di andiamo basta vestiti cazzo vestiti cazzo grazie va bene raggiungi bene via for the ball ci non riusciamo ad andare fuori dalle palle eh eh Velen direzione albero dell'impiccato mi sa è il unico punto che si può recuperare adesso va bene vada siri 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 la siri siri la velen temeri e settentrionali, cinque giorni dopo, che vi aggiungo. Bene. Sì, diciamo che il benvenuto non è dei migliori, ecco. Oh, finalmente riusciamo a iniziare a giocare, va? Sì, sicuramente è una gran situazione questa. Sì, non è un tank, tío. Un bel lago. Ui, 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 ui. ce ne sono altri? che cittadina accoglievole salve signora eeeh non ti spaventare sembra di capire che qua ci sia da camminare un po' bacheca proviamo un po' aveglia attenzione gli alberi hanno orecchie ok moglie scomparsa attenzione messaggio dall'oste guarda questo che balla guarda come balla la ciccia mamma non lascia parlare al strano ehi fai bene non parlare chi è tu? voglio ravanare casa tua ho ricepito non è che c'è molto qua direi proprio di no c'è un qualcosa lì proprio si andiamo di là incuriosisce bisogna andare a vedere la missione principale cavallo alla mano cosa c'è di là cosa c'è di là e si può andare? perché si può andare? la fossa di diavoli wow cosa c'è di qua? uno di particolare nel momento sembra è chiuso campamento dei banditi non sembra un posto sicurissimo ecco see or no non c'è tutto semplice so come troppo via 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 via.. qua si muore!!! via 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 salta 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 via 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 via.. ehm.. unico udastico udastico.. vai bella questa immagine ma che roba 300 piedi dai, se ci secchiamo il cavallo il cane cioè dai forza vediamo meditations vale ottimo asciucca, asciucca nooo, come ho fatto non mi dava dai 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 perfetto tu dai puoi morire così no minchia poca troia che pelo c'era la strada eh, bisogna dire ma io non ci piace la strada 90 piedi non so non so non so non so non so nascondere qualcuno o qualcosa c'è la locanda bene persona scomparsa ottimo andiamo a fare in giro in locanda dai in locanda si fanno sempre incontri interessanti caro Oster chi è arrivato? non è ancora finito di bere non è ancora finito di bere in giro in giro in giro in giro in giro oh chi è questo sembra un bravo guarda che sembra che ha due uccidere vedete? oi bravo che cosa è di avere due uccidere? mi chiedere se si guarda un extra uccidere in tu uccidere ti chiedere chi sei? o do mi chiedere che palle Bud Spencer e Terencelli sembra un sacco volete da bere? proviamo come mi chiedere tutti in giro mi chiedere mi chiedere mi chiedere il coin semplice non bevito non in giro in giro poi andiamo che gli potreste sceglie diciamo che non glielo diciamo io o nessun suo negozi limbi si hai sentito bene testa di cazzo Ma dove vuoi andare, che sei un coglionazzo No, non ho la testa di cazzo, coglione, coglionazzo, coglionazzo, coglionazzo Muori! No! Merda! Carica, carica! Dai! Non ce la puoi fare Dai, forza Posto? Sono stato bello più violento sto giro, eh? Non è un problema mio Non è un problema mio Chi è? Tu fai aca? Tu fai capire ce che sto dicendo? Il Barone non non mi ceduto questo! Tornate, tuo Barone non è un ucciso Non mi credo che pensi che i locali hanno costruito il loro cuore dei impianti Chi è? Chi è? L'unico vive in Heatherton Non lo so che è? Questa c'è di Hendrik Una crosta di pane I barons non mi piace i stranieri Oh! Stia da loro Sempre sembra di sapere quando si arriva Sempre riesce a disperare Grazie in keep Vai fuori dal palco Più i barons in ville Non ho bisogno di rispondere a me Mi piacere che tu non fassi più problemi Per te stesso, per noi due Va bene, via Diciamo di sto piacere Allora A questo punto, se vado di qua Troverò sicuramente Gentaglia Sostanzialmente Eccolo lì, eccolo lì Trovato Ma visto? Ma suuca Ma suuca Andiamo Cerca l'agente di nome Hendrik Nel villaggio a Herteton Siamo in mezzo di qua Cosa troviamo? Cosa troveremo? Allora c'è da notare Sostanzialmente Si nuota Andiamo via Via Siamo arrivati Sostanzialmente Sostanzialmente Ci sta qua sono sempre... Scendi va Giusto per essere sicuri Nooo Merda 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 Sostanzialmente Sostanzialmente Sono stati Ammazzati Sostanzialmente Cazzo Allora Ci sono stati ammazzati minco, vieni salvo, caro mio, salvo ma ti ho aiutato, quell'io dazzo bravo, damagli una mano confondendolo ancora questo sarà il nostro nuovo migliore amico è finito, tutto è passato, non è mai ristorato non mi ricordo mai guardando un uomo chiamato Hendrik potrebbe vivere in questa villaggio sì, lo ha fatto non più cosa è successo? mi racconta cosa è successo qui, passo a passo si hanno la scuola, hanno la scuola hanno la scuola, hanno la scuola la sole era in grado, vedi? forza, forza, più di tutto possessori possessori sono passati di qua il cavaliere dello Zodiaco non mi ricordo non mi ricordo cosa è successo save terror through and through Hendrik screamed poi ha pregato poi per il fine potrebbe non ma Molto. Molto. Just wonderful. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No. And I'll not set foot there. Never. Farewell. And peace of mind to you. Sicuro. Ce la farà di certo. Allora, raccogliamo un po' di carnetta. Vediamo qua. Qua ci sono le impronte. Traci di oce all'interno dei piedi. Really? L'hanno seccato per bene. Cosa volevano sapere? Maybe they missed something. Che ha nascosto qualcosa negli stivali. Ci sta. Sono troppo bravo. Oh. Esamina. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Beh lì. Camino. Aspetta. Tamara Stranger, figlia del Barone Sanguinario, risulto rompimento, prevista un'auta ricompensa per chi dovesse trovarla cercava di fare soldi farla breve Bata la segreta Bata la segreta Cosa è giusto? Cosa è giusto? Che fai a vendita? Cosa? 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 scomparsa e ricercata porco ubriaco il litigio con una strega si consiglia cautela dovrei scegliere uno vedendo il cartello il manifesto di un attimo fa direi scomparsa e ricercata si consiglia cautela solid, strange glow observed in the sky ill omen peasants say drunken swine so called baron hosted subject at his castle or should i say illegally appropriated fort reason unknown talked to baron at crow's perch clashed with a witch subject landed in swamp encountered a witch conflitto in suit cause unknown find the witch talk to the peasantry village of midcops credo sia tutto somehow they learned Hendrik was looking for siri thus the torture my only leads the baron and some witch damn va bene cartello e barone quello più vicino lì non c'è alchimia bisogna per forza andare a cavallo cavallcato veloce di 500 piedi forza più tardi più tardi stardo che scussè è questa? una rotonda? una rotonda sai che c'è anche faccio una bella meditazione quindi riprendo per bene come on now come on roach addirittura non ce l'hai con me ma si che ce l'ha con me fanculo caro uomo del barone minchia raccogli quello che è avanzato ehi là stiamo arrivando sono io oh che ammazzo proviamo qua c'è il cavallo la standeria qua sta chiusa caro paesano caro paesano perché? oh oh ho uno stile di vita conosci bene la zona ho bisogno di te e tutto quindici dai ok no non sei anni quando quando il vecchio che ancora corso 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 il vecchio c'era il vecchio il vecchio lo la l'arga finalmente trovato il vecchio nel l'arga si si sorprende è Ah... Un dritto come il piscio Poi segui quella pietra a una pietra L'istrano sta sull'istrano Diretti pasto la pietra, e poi diretti di nuovo Vi troverò, grazie E' qua, e' qua E' qua, e' qua Vai Ah...eh, non l'avevo mica visto Ok Un funghetto, tra la la Cosa sei te? Una strega d'acqua Bastardo Bastardo, bastardo, bastardo Sì, bellissimo Stronza che sei, oh Forse su di qua Sì Direi buona Buona Una cazzo di luce Una cazzo di luce Non una luce basta, ma Una cazzo di luce Nascosti nei fiori Non ci vede nessuno Infosema? No, queste erano balle Ho attenzato un po' Mi e Mojani Come abbiamo trancato Come abbiamo trancato Ha 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 Tiroetta Vamo 1, 2, 3 1, 2, 3 Non so perché Ma me lo immaginavo ciccione 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 Non mi importa come faccio Ma le entrega Devono essere Semplici Non stai per tè No Inoltre Hai un altro Allo? Ahah Un difendere del downturn Salve Un'idea La notizia Si Si Quando ho appena che hai sottato i miei uomini Pensavo di averci capito e sottato o almeno sfogato Ma poi ho pensato che un tuff cocker se ci sia che un uomo come lui potrebbe provare utile utile Per cosa? Vediamo di capire utile Come? No Si Va bene Si Si Hai Esa No Si 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 Ricordi, ho ancora bisogno di decidere cosa fare con te... ...e che dovrò fare dopo aver parlato. Facciatevi a casa. Se non potevano la vodca... ...si viaggia a vodca, cazzo. Ah, c'è lì! Un sfruttore? No, grazie. No, grazie. Non veniva qui per piacere. Come lo so. Ma non sento qui a sfruttare, se non puoi. Prima della guerra, c'era una distilleria a vicino... ...la best in Velen... ...o che i suoi figli sono freddi in grado. ... premi, tutti. Per le cose, sono Filippo Stranger. I altri Bloptids che per me chombrano ubrano il barone. Geralt di Rivia, bloptids che per me chombrano di Blaviken. Ci sono, se chi tu sei. In realtà è la voce per cui parliamo. Come piaci di questo qui in Velen? Un bel posticino, va bene. Puoi venire al punto? Sì. E? 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 Quindi ora siamo Siri, ottimo!